Ciao a tutti, siamo in diretta da Gagodon, dal torneo di quarta categoria femminile FIT, è l'unico in Italia quest'anno, siamo qui con la vincitrice del giorno, Lucia Vaccaro, buonasera, benvenuta a Gagodon, è già la tua seconda partita qui a Gagodon? Sì, è la mia seconda partita. Com'è andata questa prima esperienza sull'erba? All'inizio è stata complicata, è il campo nuovo, sempre giocato sulla terra, però ho risposto bene, ho capito come funziona e mi sono trovata bene poi alla fine. Bene, quindi direi che è nato subito un feeling, è nato un feeling, sì sì, adesso è solo erba, è solo erba, quindi continuerai qua la stagione a Gaiba, speriamo, tu sei di 90 Vicentino, ecco ci puoi parlare un attimo della tua esperienza temistica, come è nata questa passione, come si è sviluppata? Beh, è nata per fare qualcosa insieme a mia figlia Giorgia, che loro abbiamo cominciato insieme ancora otto anni fa, lei ha fatto un percorso più veloce del mio, giustamente visto la giovane età, ma anche io ho continuato e adesso per la prima volta quest'anno ho cominciato a fare tornei e mi sono ritrovata qui, in questo circolo stupendo, dove sono stata accolta molto amorevolmente, gentilmente e mi sono trovata proprio bene. Sì, bene, grazie, e senti, quando hai visto sul calendario questa novità, no? Gaiba tornei sull'erba naturale, cosa hai pensato? Un errore? Non ce la posso fare, sì! Voglio provare questa cosa esclusiva? Come la sensazione di Wimbledon, abbiamo un Wimbledon vicino a casa, voglio provare. Quindi devo assolutamente andare. Assolutamente, lo consiglio proprio a tutti. Quindi un suggerimento agli appassionati che ci seguono da casa? Di provare, di venire qui e provare questo campo, è tutto l'ambiente che lo circonda ovviamente, che merita. Quindi facciamo, intanto vi faccio le congratulazioni per la seconda di pari qui a Gaiba Grazie per la seconda di pari, un bocca al lupo per il buon proseguo del torneo. Speriamo, crepi! E niente, accoglieremo sempre tutti gli giocatori appassionati che vogliono venire a trovarsi qua sull'erba di Gaiba. Grazie a tutti da Wimbledon, e vuoi lanciare un saluto, qualcosa, un augurio? Beh, saluto tutti i miei compagni del club tennis di Noventa Vicentina, il presidente che mi ha iscritto a questo torneo, lo devo a lui, questa è la mia seconda vittoria, e provate tutti a venire qui, perché è bello. Bene, grazie a ora di questo augurio, e un saluto a tutti da Wimbledon, alla prossima, e un saluto a tutti gli appassionati. Ciao, ciao!